ciao a tutti di carli e benvenuti oggi in un nuovo video so che siamo in una location totalmente diversa oggi è il mio compleanno e io vi voglio portare in questa magia voglio farvi immergere in tutto questo perché è uscito stupendo tutto quindi adesso vi farò vedere voglio partire dal viale dove si sale io sono ovviamente già salito e questa è la location stupenda cioè io innamorato di questo la festa è tra la realtà e la magia aspetta mi faccio vedere stavo dicendo la festa è tra la realtà e la magia la realtà degli animali la natura e la magia io perché sono un unicorno adesso rigiro per farvi vedere si arriva in questo posto stupendo e si va da qua nell'ingresso adoro perché veramente immerso tra la natura piante stupende e appena arrivi la postazione lascia un ricordo una frase una dedica l'angolo foto con la giraffa io in innamorato la simietta ragazzi sembra vero io l'adoro e la zebra cioè appena sono arrivato mi sono trovato questo e detto no adoro cioè lo sapevo che c'era ma vederlo dal vivo è wow oh mio dio poi di qui sonia l'organizzatrice che ha fatto questo angolo fuori ha lasciato queste cose da attaccare lì con delle dediche ma io innamorato di tutto non so se mi sentite ma sono straemozionato perché veramente tutto stupendo non ho mai fatto una cosa del genere e non so cosa farò al mio matrimonio visto che c'è tutto questo adesso possiamo descrivere tutto in una sola parola no vabbè lei è la mia nuova amica ciao vi presento giraffa per gli amici solo affa io l'adoro poi c'è la scimmetta la scimmetta io la voglio vera non si può avere ma io la voglio ti amo tu sei la mia scimmie ti chiamerà scimmie scimmie scimmia 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 cioè io adoro e la zebra striscia stupendo tutto stupendo poi si entra dentro siete pronti ragazzi entriamo e voilà ed è qui che c'è la magia questi sono tutti i tavoli degli invitati ed è stupendo tutto c'è da a partire dalle decorazioni in alto i fiori al piccoli dettagli i segni a posto questa frase stupenda la magia è un ponte che ti permette di passare dal mondo visibile in quello invisibile e imparare le lezioni di entrambi i mondi lo adoro poi ogni tavolo ha un nome questo è in canto dove ci sono i miei genitori e la nonna questo è il mio perché sto bevendo perché se non svengo lì c'è sonia e l'aiutante organizzatrice grazie perché anche grazie a te tutto questo questo è un altro tavolo il tavolo dei miei amici che si chiama armonia con i cuscini del mio colore preferito e adesso capirete perché i cuscini sono di questo colore questo è il tavolo dei amici di mariano fantasia questo è il tavolo di tutte le persone che hanno aiutato il tavolo del coraggio dell'energia che ci hanno messo per creare tutto questo spettacolo ma poi fiori in alto io adoro e basta e poi qui il tavolo della famiglia di mariano e euforia che c'è nicole che è euforica e poi loro trasmettono euforia nel penultimo tavolo l'allegria il mio tavolo ovviamente il tavolo magico perché sono io e quindi comunque questa è tutta l'atmosfera non so se potete capire ma wow e adesso passiamo alla cosa ancora più bella l'angolo della torta minuto di silenzio per apprezzarlo e per capire quanto bello pure la tigre io lo so sconvolto non ho mai visto una cosa così bella guardate come sono belli dettagli questo proprio riassume il tema della festa realtà e magia i gelati con l'unicorno i biscotti unicorno questi che sono così carini i cupcake cioè non li mangio soltanto perché sono stupendi e non penso che li farò mangiare a nessuno perché per ricordo cioè questo non ha bomboniera non si possono mangiare sono troppo belli e poi mastodontica lei stupenda la tigre e wow l'arco dietro il mio nome non lo so io sembro stupido in questo video ma sono emozionatissimo cioè guardare questo spettacolo mi riempie di emozioni spero che possa trasmettere anche attraverso un video quanto è bello se fate una festa con questo tema fatemelo sapere wow 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 Grazie a tutti. Allora la festa è iniziata, c'è mia sorella, mia cugine, i miei amici che stanno anche fuori, la mia famiglia, la famiglia di Mariano, è un caos, comunque è stupendo, vi voglio far vedere quelle luci accese, sono così emozionato. Qui sono nel bomboniere, guardate quelle luci accese, ma vi faccio vedere anche fuori, è spettacolare, cioè, raga, adoro i dettagli delle cose, i miei amici, questa peste, che fai? Corri per la sala, non si faccia niente, c'è il tavolo di mia mamma, mia zia, mia nonna e la mamma di Mariano, è sempre là in mezzo. Allora sono sfattissimo, Mariano è qui, la torta l'ho portata a casa, io ho questo spoiler che alla festa non vi ho fatto vedere, cioè non vi ho fatto vedere niente, perché alla fine me la sono goduta e quindi è finita. Questo è, grazie per aver visto questo video e tutto ciò che avete visto, il resto non ho fatto niente, quindi vi amo, ci vediamo al prossimo video, ciao. Ciao, è finito, non c'è niente, se tu stai guardando questa cosa per vedere se c'è altro, se è premuto da solo il play, ciao. Ciao, ciao.